Salve a tutti maledetti! Qualche giorno fa a Roma c'è stata una manifestazione il cui slogan era Difendiamo i nostri figli per riaffermare il diritto di mamma e papà ad educare i figli e fermare la colonizzazione ideologica della teoria gender nelle scuole e nel Parlamento e bloccare sul nascere il DDL Cirinna che consentirebbe in prospettiva adozione utile in affitto per le coppie dello stesso sesso per proteggere l'innocenza dei bambini e il loro diritto di avere un padre ed una madre e per ribadire la più netta contrarietà ad ogni tentativo di cambiare la nostra bella costituzione equiparando le convivenze omosessuali al matrimonio Ora, so bene che se andate a vedere la data di questo video è uscito proprio oggi nel 2015 e quella non è una manifestazione fatta nel 1800 è tutto vero, siamo nel 2015 e la manifestazione di cui vi ho parlato, poc'anzi, è il magnifico Family Day una manifestazione, a loro dire, apartitica e, ed è qui che si capisce la natura pericolosa della manifestazione, apolitica cioè una manifestazione, a prescindere dall'efficacia o no, dovrebbe essere l'esposizione di un pensiero rispetto ad un'opinione comune da parte di un gruppo di persone ed ogni, e ripeto, ogni pensiero che determini una scelta è politica ogni cazzo di scelta che fai nella vita legata alla società è politica ed è inutile che cerchiate di confondere le cose e chiamarla apolitica perché vi fa comodo che vi seguano persone non interessate alla politica, quindi, tra parentesi, inutili in una società democratica Ora, ci sono molti video che parlano di natura gender e magari a questi video fossi in voi, andrei a leggere le pubblicazioni scientifiche che chiariscono il concetto ma per farvela breve, la differenza tra sesso e gender è, teoricamente, che il sesso costituisce un corredo genetico un insieme di caratteri biologici, fisici ed anatomici che producono un binarismo maschio-femmina il gender, invece, teoricamente dovrebbe rappresentare una costruzione culturale la rappresentazione, definizione e incintivizzazione di comportamenti che rivestano il corredo biologico e danno vita allo status di uomo-donna che, per carità, noi siamo effettivamente, banalmente, una serie di informazioni ricevute durante la crescita dall'esterno ma, scientificamente, l'ideologia gender non esiste con buona pace dei cattolici e dei non cattolici presenti nella manifestazione di qualche giorno fa non esiste non è un'opinione capisco che per quelle persone il raziocinio e l'opinione sono la stessa cosa ma posso assicurarvi che no ma non voglio addentrarmi troppo in studi scientifici, psichiatrici o altro vorrei porvi una domanda assolutamente semplice partendo dal presupposto tutto questo casino è nato soprattutto per il documento dell'OMS cioè l'Organizzazione Mondiale della Scuola chiamato Standard dell'Educazione Sessuale in Europa dove vengono messi alcuni cardini di insegnamento rispetto appunti agli studi per una conoscenza ed un'informazione il più completa possibile come detto, conoscenza ed informazione sono la base, soprattutto per i ragazzini ma questo, ai nostri catto o qualcosa, non sta bene non sta bene che si insegnino a scuola determinati argomenti ed è per questo che stavano manifestando ed è per questo che una manifestazione del genere è qualcosa di incredibilmente medievale parliamo di un gruppo nutrito di persone che manifestano contro l'informazione e la conoscenza sbattendovi in faccia il punto cardine di ogni credo cioè l'ignoranza l'ignoranza porta alla mancanza di coscienza la mancanza di coscienza è la paura la paura è la fobia, la fobia è la mancanza di raziocinio e con questa mancanza poi prendiamo decisioni anche politiche andando a votare, andando a manifestare, dando delle opinioni e questo non vale solamente per il gender, l'omofobia o altro vale per tutto io non giudico un modo di pensare o un altro ma come ho spesso detto, se le basi non sono comuni se non si parte da una conoscenza più razionale dell'argomento beh, le conclusioni non possono che essere sballate anche seguendo la stessa identica logica ed è questo che cerco di promuovere la conoscenza ed il dubbio curioso vero? ed ora voglio sentire ancora qualcuno che mi parla del fatto che la religione non ha mai fatto male a nessuno cazzo, lottare per preservare l'ignoranza dal mio punto di vista è stato, è e sempre sarà male e dal tuo? bello a tutti, state mi rischietamente bene il vostro Vic Leib vi ricordo di acquistare i biglietti del Fit Tour questo 5 luglio in Roma tutte le informazioni in descrizione ciao